Saeco per me significa autenticità, tecnologia avanzata, perfezione. Sono orgogliosa di lavorare per un brand come Saeco. È di grande ispirazione lavorare per un marchio che ha una così lunga esperienza nel caffè, ma allo stesso tempo è così innovativo. Il caffè è un'esperienza sensoriale a 360 gradi. La vista, il tocco, l'olfatto, il gusto. Cosa è importante per il consumatore quando beve caffè e cosa vorrebbe in una macchina da caffè? Il consumatore Saeco è una persona di successo ma allo stesso tempo genuina, a cui piace trascorrere il tempo con la sua famiglia e con gli amici. In una macchina superautomatica lui cerca semplicità d'uso, ma anche un design che sia premium ed esclusivo, perché deve essere un gioiello che improstosisce la cucina. Qualcosa di cui essere fieri di avere a casa, qualcosa da poter mostrare con orgoglio ai propri ospiti. E per quanto riguarda le funzionalità, lui vuole sentirsi in pieno controllo. Per questo noi garantiamo ai nostri consumatori la massima personalizzazione delle bevande. E tramite il Coffee Equalizer invita a sperimentare e a giocare con le varie impostazioni per creare la propria bevanda preferita e salvarla all'interno del proprio profilo. L'innovazione è sempre stata il nostro focus. Noi abbiamo inventato il gruppo infusore rimovibile, abbiamo inventato le macchine in ceramica. Le macchine in ceramica sono incredibilmente importanti per noi e rappresentano il cuore per l'espresso perfetto. Sono un pezzo di tecnologia notevolmente superiore rispetto a nelle macchine in metallo. Tra le tecnologie innovative che troviamo su Xelsis, ricordiamo l'IG Steam, il latte perfetto e l'Aqua Clean. Il nostro espresso e i nostri caffè raggiungono i più alti standard di qualità. Un caffè creato con una macchina Saeco è con un caffè preparato manualmente da un barista professionista. Crafty Indulgence è un'esperienza, un'esperienza a 360 gradi che il consumatore può avere con le nostre macchine. È fatto alla perfezione, ha un gusto intenso e puro, la densità perfetta è ricoperto da uno strato color nocciola o da uno strato morbido e setoso di schiuma di latte. È chiaro da ogni dettaglio che Saeco mette uno sforzo quasi artigianale nelle proprie macchine. L'ispirazione arriva da una profonda conoscenza delle tendenze del mercato e dei consumatori. Nel caso di Xelsis ho guardato molto all'interior design e al mondo delle cucine alto di gamma. Xelsis è stata disegnata per emozionare in ogni dettaglio. Dal pannello di controllo ergonomicamente inclinato verso l'utente al teatro dove avviene la magia del caffè. Illuminato perché la luce nel design oggigiorno gioca un ruolo molto importante non solo funzionalmente ma anche a livello emozionale. È una macchina veramente sofisticata ed elegante che posso dire punta veramente alla perfezione ma per un'esperienza completamente nuova. L'esperienza che il consumatore può avere con questa macchina è qualcosa di sicuramente superiore. Riesce a percepire un'intensità e un'aroma straordinari e i sapori di un vero caffè italiano. Riesce a percepire un'intensità e un'aroma straordinari e i sapori di un'aroma straordinari e i sapori di un'aroma straordinari. Grazie